Corriva l'anno 1647, ma Saniello impazzava a Napoli e il signor George Fox aveva un'illuminazione che lo portava a fondare la società degli amici, conosciuti come i quacqueri, termine spregiativo come spregiativi sono il termine gotico e barocco. Francesco Borromini, nato Castelli, se li beccherà a tutti e due, il primo in vita e il secondo da morto. Ciò nonostante, grazie a un amico, padre Virgilio Spada, da Brisichella a Romagna, allo scivolone del Bernini sui campanini di San Pietro, costretto ad abbatterli e a rifondere i danni, e al nuovo pape, letto tre anni prima, Innocenzo X Panfini, che vedeva come il fumo negli occhi Barberini e il suo contorno, lavorerà a un incarico importantissimo, la ristrutturazione della Basilica di San Giovanni Laterano, ma, e non sappiamo se Borromini se la tira o è sfortunato di suo, dovrà finirla in tre anni, in occasione del giubileo del 1650, e soprattutto mantenerla quanto più sarà possibile nella sua primitiva forma e abbellirla, come scrive il Papa in una lettera del 16 marzo, che tradotto significa riparala e non t'allargare troppo, e ti addi nelle spese. D'altronde, presumibilmente, la scelta come architetto del progetto del Borromini è dettata più dall'indubbia competenza tecnica che dall'estro artistico. La Basilica Costantiniana è ridotta molto male. Il muro della navata destra sporge di 60 cm rispetto alla base e rischia di crollare. Borromini da par suo prima consolida e poi comincia a lavorarci di fino, aprendola la luce, con grandi finestre, sopra ognuna delle cinque arcate della navata centrale, alternando le annicchie, dove, recuperando le vecchie colonne delle navate laterali, crea dodici edicole in inserisce, sopra, la colomba con il ramo d'ulivo, parte dello stem maraldico dei panfili, ma in pose diverse. L'edicole sembrano staccarsi dal muro, lasciando libere le pareti della navata, che mantengono quindi quel senso di leggerezza che fa parte del canone borrominiano. Qualcuno ha avanzato l'ipotesi che nelle edicole non dovevano esserci statue, ma di fatto, nel secondo decennio del Settecento, vengono inseriti i dodici apostoli. Concorre alla spesa anche Pietro II, re del Portogallo. Non so che avrebbe detto Borromini, ma dall'idea che mi sono fatto del suo stile sarebbe letteralmente inorridito nel vedere queste statue, un po' sproporzionate rispetto alla nicchia, lui amante della leggerezza e dei materiali poveri. Soprari nicchie fa sistemare degli altorilievi, che rappresentano scene del Vecchio e Nuovo Testamento, opere di Alessandro Algardi, bolognese, insieme al ticinese Antonio Raggi. Il primo è autore della statua di Papa Innocenzo, conservata nei musei Capitolini, mentre il secondo lo abbiamo incontrato a San Carlino, sua la statua centrale della facciata, quella di San Carlo Borromeo. Sopra gli altorilievi degli ovali, dove in seguito, quasi 70 anni dopo, saranno inserite figure di profeti. Decora le arcate, affiancate da paraste che salgono su, fino al soffitto, pronte a sostenere il soffitto avvolta che moltiplicherebbe l'effetto di luce, sostituendo quello cinquecentesco. Ma arriva lo stop, dettato probabilmente da motivi economici. Il soffitto rimane così com'è, rovinando per sempre il progetto architettonico, che rimarrà incompleto, come non ci saranno più interventi del Borromini nel transetto e nell'abside. Giulio Carlo Argan, critico d'arte e primo sindaco non democristiano della Roma nell'era repubblicana, in un saggio postumo definisce il progetto borrominiano il magistrale fallimento, esaltando comunque la capacità dell'artista che nella sventura riesce a lasciare il segno della modernità, e che tuttavia non esclude né il restauro né la conservazione. Lavora quindi sulle navate laterali, con la luce e i colori chiari, e le decora con motivi floreali, con palma, alloro e quercia, e teste d'angeli, ognuna differente dall'altra. Inserisce degli ovali, dove prima si intravedevano le antiche mura, conserva una parte del vecchio pavimento. Il papa preme, manda suoi emissari a controllare lo stato dei lavori, e i lavori principali finiscono in tempo, ma succede il fattaccio. Un certo Marco Antonio Bussoni, chierico romano, viene sorpreso a danneggiare gli ornamenti marmorei della chiesa. Non si saprà mai se è scemo di suo o è mandato da qualcuno, fatto sta che il Borromini ordina a qualcuno dei suoi verai di legarlo e portarlo nel palazzo, e forse di dargli una bella lezione. Ma si va oltre e il chierico ci lascia le penne. L'accusa è di omicidio. Se la caverà fatica, grazie all'intervento del papa, che lo esilierà fino a Revoca. C'è chi dice a Orvieto, altri a Viterbo, altri dicono che in esilio non ci andò per niente. Nel frattempo arriva il giubileo. Si abbattono i muri delle porte sante, delle quattro basiliche maggiori. Scompare qualche cassetta piena di monete d'oro e d'argento che tradizionalmente erano inserite nella muratura. Si rimpingono le casse della curia e di osti, locandieri e borseggiatori con l'arrivo di circa 700.000 pellegrini. L'esilio, se ci fu, fu comunque breve. E Papa Innocenzo X, evidentemente soddisfatto del lavoro, lo nomina Cavaliere, dell'Ordine di Cristo, un ordine portoghese con sede a Tomar, erede dell'Ordine dei Templari. Borromini lo ritroviamo dopo il 1655, intento a recuperare antichi sepolcri, che incontrano fornicia i splendidi disegni architettonici, e dove i monti e le stelle dei Ghigi sostituiscono la colomba e i gigli dei panfili. Dato che nel frattempo Innocenzo muore, e sul soglio sale Fabio Ghigi, col nome di Alessandro VII, stesso anno di nascita dell'architetto, 1599, e stesso anno di morte, 1667. Borromini conserva, restaura ed elabora. Il suo rapporto con l'antico è come un divenire, non come un principio d'autorità, un tratto, un segno, un'allusione, e non un'imitazione. Un esempio, l'erma cherubinata. L'erma, dal nome del dio Hermes, colonnette inizialmente con la testa del dio che veniva posta nei crocicchi lungo le strade, ai confini delle proprietà a protezione dei luoghi e delle persone, viene qui riproposta, simile a una cariatide, nella tomba di Papa Sergio IV, in stile misto, gotico nella stilizzazione delle ali, barocco nel volto, classico nella colonna. La ritroveremo più in là. Secondo me, comunque, la Basilica va guardata per blocchi, secondi periodi e per singole opere, altrimenti si rischia di essere sopraffatti dalla sensazione di qualcosa di incompiuto, dove le opere d'arte risultano quasi ammassate in modo disomogeneo come un deposito in attesa di una definitiva sistemazione. D'altronde, fallito il progetto borrominiano, che avrebbe ridato unitarietà, si può solo frugare nelle pieghe della storia più che millenaria, ben presente nella Chiesa. Ultima annotazione che non c'entra con il borrominima, ve la devo dire, è che nel transetto destro della Basilica Costantiniana è sepolto Lorenzo Valla, il prete umanista che sbuggerdò la donazione di Costantino, denunciandola come un evidente falso. Ironia della sorte o simbolo di una Chiesa capace di far rientrare tutto nel proprio capace ventre? A voi le considerazioni. Un saluto a VidLab e ci vediamo alla prossima, al Battistero. Un saluto a VidLab e ci vediamo alla prossima, al Battistero. Un saluto a VidLab e ci vediamo alla prossima, al Battistero. Un saluto a VidLab e ci vediamo alla prossima, al Battistero.